Siamo stati costretti a convocare una conferenza stampa per denunciare tutto ciò che sta accadendo che è gravissimo. Sostanzialmente arrivano a Brindisi, alla discarica di Autigno, rifiuti da Bari in tonnellate esagerate. L'amministrazione comunale di Brindisi non fa nessuna opposizione a quanto avviene, nello spirito di una solidarietà con la regione Puglia di Vendola. Tutti questi rifiuti che arrivano non portano nessun vantaggio ai cittadini, cioè non c'è un euro che entra dei soldi che pagano i comuni del Barese per conferire straordinariamente questi rifiuti che ormai da più di sei mesi vengono portati a Brindisi. Allora come mai Consales che è così veloce ad opporsi ai circhi non si è opposto a questa decisione della regione? Noi questo ce lo siamo chiesto da tempo e lo chiediamo anche pubblicamente, nel frattempo non abbiamo avuto risposte, abbiamo avuto offese e contemporaneamente però abbiamo avuto tanti rifiuti in regalo ai cittadini di Brindisi.